Per noi la partecipazione al Giro è molto importante, innanzitutto abbiamo una squadra al Giro E e il Giro con le biciclette pedalate assistita, ma abbiamo un rapporto con RCS Sport e con il Giro d'Italia per trasmettere e per veicolare tutte le immagini del nostro paese riprese in occasione al Giro d'Italia in tutto il mondo, in tutta la televisione del mondo quindi noi approfittiamo di questo straordinario mezzo per promuovere il nostro paese è una ripartenza dopo quello che sappiamo sta succedendo, è successo e sta succedendo in Italia e in tutto il mondo cerchiamo di tenere alta la voglia in tutto il mondo del nostro paese questo è un po' quello che ci permette fortunatamente l'aver realizzato da parte di RCS Sport anche quest'anno è il Giro d'Italia